Nuova ondata di maltempo imminente sull'Italia, da prima per una perturbazione e poi per un vortice ciclonico. Ecco le regioni più a rischio fenomeni intensi dove abbiamo un'alerta arancione quindi per possibili piogge anche di forte intensità, in particolare tra Liguria e Alta Toscana entro la giornata di mercoledì, tra mercoledì e giovedì anche sulle centrali antirreniche, in particolare sulle coste tra Lazio e Alta Campania, la giovedì e fino a sabato soprattutto il sud e in particolare la Sicilia e venerdì e sabato soprattutto il versante ionico di Calabria e Sicilia. Attenzione a Catania perché non escludiamo ancora una volta piogge di particolare intensità, ma per tutti gli ulteriori e doverosi aggiornamenti vi ricordo di consultare il sito trabimeteo.com oppure di scaricare l'app di Trabimeteo gratuita per tablet e smartphone.